L'edizione 2023 provvede tantissime cose, tantissimi ospiti, tantissimi libri, come già da qualche anno anche tantissimi laboratori. Ci sono tante novità anche per quanto riguarda Fuori Passaggi, che è quel passaggio che sta nel Pincio, nella location del Pincio, che si occupa di libri rivolti a un pubblico più giovane, più social, più interattivo. Io mi occupo per esempio all'interno di Fuori Passaggi della parte dei fumetti. Una novità è che i fumetti da quest'anno saranno alla San Francesco e avremo tanti ospiti internazionali e anche locali. Una novità di Fuori Passaggio al Pincio è che siamo riusciti finalmente a concretizzare un'idea su cui lavoravamo da un po' di tempo. Sarà un momento in cui chi viene al Pincio potrà trovare non solo chi racconta del proprio libro, della propria opera editoriale, ma anche potrà trovare gli autori che in qualche modo sono a disposizione del pubblico in un ambiente molto vicino a un salotto. Ecco, ci sarà la possibilità di bere qualche cosa, mangiare qualche cosa, dialogare con gli autori, anche gli autori potranno dialogare fra loro. Quindi come elemento di novità, di Fuori Passaggi, c'è proprio questa evoluzione. Novità, non novità perché è alla seconda edizione, però è una cosa su cui io vorrei rubarvi un minuto, nel senso che per noi è stato molto importante poter aver stretto una relazione con la lettura che è l'inserto quotidiano del Corriere della Sera. Passaggi fra le nuvole, che è la rassegna che io curo, dall'anno scorso ha un premio e dà la possibilità a tutti coloro che volessero inviarci del materiale grafico, un fumetto, noi l'abbiamo chiamata Short Graphic Novel perché poi il vincitore vedrà pubblicato il suo lavoro proprio nell'inserto, nella lettura a giugno. Chiunque volesse o avesse un'opera nel cassetto può inviarla e noi con una giuria selezioneremo quella che ci è piaciuta di più. Anche quest'anno abbiamo selezionato un'opera e la presidentessa della giuria di quest'anno, che è Rita Petruccioli, premierà questo ragazzo nell'ultimo giorno della rassegna del Festival di Fumetti, che è sabato 24 giugno. Invitiamo tutti i telespettatori, naturalmente, a passaggi, invitiamo anche i telespettatori a prendere contatti con tutti gli amici, parenti, anche fuori Fano, che volessero raggiungere Fano nei giorni del Festival, che è dal 21 al 25 giugno, e quindi aspettiamo tutti con molto affetto perché questa credo sia anche una caratteristica del Festival, l'ospitalità che ci contraddistingue anche da altri eventi.